Qual è stata secondo te la chiave della partita? Ma il Noci è una buona squadra, come hai detto tu, siamo stati lì, uno o due gol sopra, la conosciamo, ci abbiamo già giocato l'anno scorso in A2 insieme. Non lo so, forse è il cuore, ci mettiamo sempre il cuore in tutto quello che facciamo, ogni allenamento, ogni partita. Abbiamo cambiato molto quest'anno, ci stiamo ancora compattando diciamo, però niente questo, abbiamo vinto, siamo contenti, vogliamo bassi perché ancora non abbiamo fatto niente. Noi giochiamo il nostro campionato, andiamo per la salvezza. Quanto sono importanti allora in ottica salvezza questi tre punti contro il Noci? Troppo, troppo importanti. In casa dobbiamo essere, la squadra ce la dobbiamo giocare con tutti, dobbiamo dare filo da torcere a tutti, cercando anche di fare qualche punticino fuori casa. Siamo una squadra giovane, abbiamo tutti una ventina d'anni, quindi questo, niente, ci mettiamo il cuore in tutto e questo. La partita è stata equilibratissima praticamente fino agli ultimi 7-8 minuti, poi cosa è successo? La partita è stata molto equilibrata, poi il risultato è un po' molto più largo di quello che si è visto in campo. Però loro, anche quello che hanno spesso quest'estate rispetto a quello nostro, è molto di più in caso di budget. Però noi ci abbiamo messo il cuore e la passura, anche se non è bastato, c'è molto rammarico per questa sconfitta. Però sappiamo che in casa potremmo dare molto di più di quello che abbiamo fatto oggi. Anche per piccole cose, per l'espulsione del nostro di Corcione, ha un po' messo la bilancia dalla loro parte. E questi 6 gol di scarto, forse sono anche questi. Abbiamo sbagliato a forzare in certe circostanze che non dovevamo forzare con tiri dai nuovi, perché la loro difesa è molto alta, molto più fisica di noi. E questo forse è stato il nostro piccolo errore. E questo forse è stato un po' messo.